Non ha dubbi il pubblico ministero della procura di Udine, Claudia Danelon, che in una requisitoria di cinque ore dopo la discussione con le parti civili, ha attentamente dimostrato che Lisandra Aghia Rico, la giovane cubana ritenuta responsabile dell'omicidio dei coniugi Burgato, avvenuto nella seconda metà di agosto del 2012 all'Ignano Sabbiadoro, lungo il litorale udinese, sarebbe anche colei che ha eseguito materialmente il duplice e ferato gesto. Nei suoi confronti il dottor Danelon ha chiesto il massimo della pena. L'analisi sul sangue presente nella scena del crimine avrebbe evidenziato che a colpire è stata una persona che usa la mano destra, il fratello Raver, presente nel luogo del duplice delitto, condannato nel frattempo a Cuba, dove era fuggito, è Mancino. Le parti sono state aggiornate all'udienza del 3 ottobre prossimo per le repliche e la sentenza. In aula presente la stessa Lisandra che ha chiesto perdono leggendo un messaggio di scuse preparato in cella, rivolto in particolare al figlio della coppia, Michele Burgato, tra l'altro suo coetaneo e entrambi hanno 22 anni, messaggio in cui continua a sostenere la propria estraneità ai fatti.